Al di là del film, questa è un'esperienza che mi ha cambiato la vita e che me la sta cambiando ancora. Credo che ai ragazzi che vogliono fare il cinema non si debbano dare delle regole perché noi dai ragazzi e dai giovani ci aspettiamo che queste regole vengano sovvertite, infrante, si può portare soltanto l'esperienza di quel poco o molto che si è riuscito a fare. Io sono contentissima di essere qui e raccontare la mia esperienza è il minimo che posso fare per loro. Anche oggi per me è stata una lezione, quella magia di cui si parlava quando dicono riesci a ritrovare quella voglia di recitare che avevi nel primo film, quella cosa. ce l'hai anche nel momento in cui parli con loro e ti rendi conto che c'è un pubblico che ti sta guardando e che è curioso e che in quel momento ti sta insegnando qualcosa. sono io che insegno qualcosa a loro e loro che insegnano qualcosa a me sempre, c'è sempre uno scambio. Grazie. Grazie.